A Battipaglia Luca Amuto è stato designato come neocommissario per l'Udc. La nomina resa ufficiale in queste ore è stata conferita dal segretario provinciale Mario Polichetti, il tutto nell'ottica di una riorganizzazione che getterà le basi per la campagna elettorale con le comunali nella città capofila della Piana del Sere. Il segretario provinciale Polichetti, nell'augurare vuol lavoro a delegato, ha voluto puntualizzare che Battipaglia rappresenta un territorio strategico per la crescita del partito che andrà ricostruito anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Poi snocciola dati inerenti il neocommissario dell'Udc. È un avvocato da circa 15 anni con un proprio studio, mentre politicamente Luca Amuto ha sempre orbitato nelle aree moderate di centrodestra. Con l'Udc ha ricoperto la carica di assessore alla Polizia Municipale del Comune di Battipaglia tra il 2011 e il 2012. Mi compiaccio per la nomina e ringrazio il segretario Polichetti per la stima, ha dichiarato il nuovo commissario dell'Udc Battipagliese.